Anche nella città di Lione, Francia, c'è un appartamento che è stato trasformato in galleria d'arte per la gioia dei fan della pop-up art. Andiamo a casa di Sylvie Garrigue. Negli ultimi quattro anni ha trasformato questo appartamento in un bazar di arte contemporanea. Lo ha intitolato Raccoon Tarts. Da una parte l'idea è mischiare le espressioni artistiche, pittura, scultura, fotografia, tappezzeria o reficeria. Dall'altra il fatto di far coabitare insieme artisti di fama internazionale. Un artista che ha deciso di esporre la sua arte qui è lo scenografo, pittore e scultore Rodrigue Glombard. Ha esposto una serie di creazioni sulle quali ha lavorato dal 1997. Suo obiettivo è quello di lavorare ogni giorno per un periodo di tempo indeterminato. Qui l'ambiente è diverso, non c'è la sacralità di un abituale luogo di cultura. La galleria viene aperta dietro appuntamento durante tutto l'anno, ma intanto per i giovani artisti di Lione il luogo è diventato un punto di riferimento. Qui il contatto è più facile, è un luogo magico e la cosa mi porta con l'anima nella vita degli altri artisti. La cosa dà un'anima a questo ambiente. Raccontarts agevola il contatto con l'arte. Le sue pagine web consentono di comprare arte anche online.